6 luglio, notizie per una nuova Milano. Oggi volevo aprire con un'immagine che secondo me è simbolica del momento che stiamo vivendo. L'immagine è quella che ha messo in scena un artista che si chiama Nicola Mette nelle strade di Milano, che ha messo in scena una performance d'azione intitolata Urbi e Torbi. Lui si è mascherato da malato Covid in terapia intensiva ed è andato in giro per Milano per sensibilizzare sull'emergenza e soprattutto su quello che a suo avviso è stato fatto male nella nostra regione. E perché secondo me è l'immagine che rappresenta questo momento? Perché lui voleva sensibilizzare i milanesi, però l'impatto, che è comprensibile se vogliamo, è stato quello di innescare una curiosità, una simpatia, anche dei sorrisi da parte di milanesi, che l'hanno guardato come qualcosa di totalmente estraneo. Questo secondo me è quello che stiamo vivendo. E non parlo del Covid come malattia, cioè da un lato c'è lo spettro Covid, quando vi dico gli ultimi dati delle ultime 24 ore sono che ci sono stati in tutta Italia 7 morti, a Milano 7 contagi. Per capire 7 morti basta vedere che ogni giorno, e in Italia, ci sono dai 1500 ai 1700 morti, quindi 7 morti sono meno dello 0,5% dei decessi che hanno appunto il Covid, quindi come con causa il Covid, meno dello 0,5%, quindi i dati dicono che è qualcosa che dal punto di vista della letalità ha un'incidenza oggi irrisoria, che poi è quello che dicono tutti i medici, i medici impegnati in prima linea, da Bassetti, Zangrillo, Lagismonde, tutti quanti da una parte o dall'altra, sembrano tutti concordi nel dire guardate che oggi gli ospedali sono vuoti, oggi comunque o si è indebolito, comunque sia non colpisce più come prima, riprendiamo una vita normale, che è quello che sta succedendo un po' in tutta l'Unione Europea, dove ormai sono due mesi e passa che hanno ripreso a vivere normalmente, e tutti i dati sono in calo. Eppure, nonostante questo, tutto il weekend, i grandi titoloni dei principali giornali erano su questa minaccia di nuovi focolai in Veneto, oggi stesso ci sono da un lato il fatto che si chiede al governo di intervenire col TSO per quelli che non si curano, e dall'altro c'è anche il Corriere Milano che dice che apre, dicendo, il grave problema della movida, anche se non esiste una correlazione negli ultimi due mesi, si parla sempre, ogni giorno, ormai da due mesi, di queste movide e assembramenti, però non c'è stato nessun rialzo collegabile fra le due cose. Quindi da un lato questo spettro, che probabilmente è uno spettro ormai del passato, e siamo felici di quello, però bisognerebbe agire come si sta facendo, ripeto, nel resto d'Europa, altri paesi ormai sono passati, parlo della Francia, della Germania, della Svezia, alla fase 3, cioè dove la fase 3 cos'è? Che la priorità ormai è il rilancio economico, il Covid è un brutto ricordo, basta leggere qualunque giornale di questi paesi, si vede che ormai sono notizie minime, mentre invece da noi si dà tanto risalto. Mentre dall'altro si tende a trattare con curiosità, simpatia e divertimento per tutte le chiacchiere che sta generando attorno, quello che oggi è il vero spettro del Covid. C'è un giornale che oggi infatti l'ha centrato, dovessi dire qual è il titolo oggi più azzeccato della situazione che stiamo vivendo, è il titolo della stampa nazionale, la stampa titola Covid, lo tsunami abbatte anche il pil delle regioni, e dice che in questo studio ci sono imprese e famiglie che hanno maggiore difficoltà rispetto al resto d'Italia che sono concentrate in tre regioni. Quali sono queste tre regioni? Veneto, Piemonte e soprattutto Lombardia. Cioè quello che dice, quello che tanti, che è ovvio che dove l'emergenza sanitaria è colpita di più, è ovvio e naturale che ci sia anche una, che ha colpito più economicamente, perché non c'è solo il problema sanitario, c'è anche il fatto la perdita della caduta d'immagine, il fatto che se tu hai tanti, in un territorio che è stato colpito di più, probabilmente i consumi stentano più a ripartire, hai più modalità restrittive, cioè è innegabile che in una regione dove ancora oggi, a metà luglio, c'è un obbligo di mascherine all'aperto, non certo crei la situazione ideale per ritornare a vivere nel modo normale. Quindi c'è una dimostrazione che è quello che sta dicendo, anche noi lo stiamo dicendo con Milano Città-Stato, occhio al governo che ha detto, ha dichiarato che in caso di più fondi dall'Europa, quello che ha dichiarato il primo ministro, che verranno impiegati soprattutto per infrastrutture al sud, occhio che effettivamente è stato più colpito, non solo come numero di morti, ma anche come tracollo economico. Quindi di fronte a questo, che è il vero spettro esistente, perché dico che lo stiamo guardando tutti con una certa sufficienza? Perché tutti ormai stanno dicendo, occhio che quest'autunno, già la situazione è grave adesso, ma quest'autunno sarà gravissima, e già è adesso, perché ad esempio oggi sui giornali si pubblica come un altro, i locali, ogni giorno c'è un locale che chiude, adesso il Blues House, dopo l'Oibo, i locali storici di Milano, la scala dei grossi problemi a creare il suo palinsesto, c'è il Comune di Milano che ha già quantificato in circa 300 milioni di euro i mancati incassi del trasporto pubblico cittadino, cioè ci sono dati veramente sconfortanti. Allora la domanda è, di fronte a questo, di fronte al fatto che sappiamo che quest'autunno ci sarà un nuovo tsunami, in questo caso puramente, mi auguro, economico, che cosa si sta facendo? i vari attori. Allora i privati qualcosa stanno facendo, a parte cose floristiche che si trovano oggi sui giornali, come a parte il drive-in al Parco Nord che sembra che stia andando molto bene, o il Camparino che ha inventato, come si confà alla città, alla capitale degli aperitivi, un aperitivo dedicato al lockdown, però forse la notizia più importante è quella che emerge dal settore immobiliare, dove da un lato ci sono circa 5 miliardi di euro di nuovi fondi di investimento che dovrebbero agire sia nella zona sud di Santa Giulia che nella zona nord dell'ex greco e dall'altro sembra che ci stia riprendendo il mercato immobiliare anche tra i privati, più 7%. Però, a parte questo, questo è il privato che, bene o male, fa un po' il suo mestiere. Cosa stanno facendo invece il settore pubblico? Allora, vediamo un po', ripartendo da Milano, le risposte principali sono queste. Allora, di fronte ai meno 300 milioni, il Comune dice che il Governo deve fare di più, anche perché ha promesso finora circa 45 milioni di fondo nazionale che dovrebbero arrivare a Milano. In più, il Comune se la prende con la Regione, perché dice che la Regione ha comunque la delega ai trasporti, quindi per questa delega ai trasporti deve intervenire per eventuali buchi di bilancio. In più c'è altra iniziativa, dal 28 settembre parte Milano Design City, un po' un mini fuorisalone, c'è sostanzialmente un evento che dovrebbe far ripartire un po' le cose. E poi c'è, ad esempio, il Presidente del Municipio 1, Arrigoni, che se la prende con i Deor, dice che si sta esagerando adesso con questi locali che mettono all'aperto. Mi sembra vedere tutte, compreso anche le dichiarazioni che ha fatto il Sindaco, mi sembra che un po' la strategia a Milano, a parte quella che è ormai la strategia imperante in Italia, nel settore pubblico, Milano chiede soldi alla Regione, la Regione chiede soldi al Governo, il Governo chiede soldi all'Europa, io credo che una vera politica dovrebbe essere altro, soprattutto, innanzitutto, interrogarsi sul fatto che siamo sempre noi che stiamo qua a chiedere soldi su, ad esempio, un'emergenza che ha colpito tutto il mondo e comunque anche tutta Europa. Mi sembra che solo noi in Europa stiamo comunque basando tutta la nostra politica sul cappello in mano. Però, a parte questo, mi sembra che la politica sia un po' quella del fare un po' finta di niente, cioè cercare di tornare a prima, il fatto che adesso si riparte con il design, togliamo il Deor, chiediamo soldi al Governo, cioè non c'è nessun intervento strutturale. E questo non riguarda solo la maggioranza, riguarda anche l'opposizione. Oggi si sta dicendo come, si sta tornando sull'ipotesi di candidature da parte dell'opposizione e Salvini ha dichiarato di voler avere un manager, forse si pensa che potrebbe essere Mario Resca, l'ex CEO di McDonald's, che credo oggi non è più CEO di McDonald's Italia, credo che abbia cariche rappresentative e sia in pensione. Comunque, detto questo, il discorso del contrapporre un manager a un manager, io credo che oggi la vera debolezza di Sala sia proprio l'essere manager, che era la sua forza nel governare la città. Cioè il manager, come dice la parola, è un po' quello che amministra. E va bene quando le cose van bene, ma in uno shock come quello che sta vivendo Milano all'interno di un grave shock italiano-internazionale, io credo che sia proprio il momento di avere un politico con una sua visione. Cioè occorre costruire qualcosa che non c'è, che non è certo una figura da manager, perché poi ognuno è anche un po' la professione, la sua vita proietta in quello che fa, quello che è la sua esperienza. Che è un po' il momento di crisi anche di Sala. Quindi io credo che stia sbagliando l'opposizione. Sembra di essere tornati al 2016, quando si cercava, si è preso Parisi come una sorta di fotocopia un po' più, leggermente più, di centrodestra rispetto a Sala. Cioè adesso non c'è bisogno di fotocopie, c'è bisogno veramente di qualcosa di nuovo. E la scelta delle nomine è un esempio di come si sta brancolando nel buio. E chi sta brancolando nel buio è anche il governo. Perché a tutte queste domande, che cosa si sta facendo, il nord è più colpito, tutto quanto, cosa sta facendo il governo? Oggi titola il Corriere Nazionale come prima notizia le riforme per il recovery funds, meno tasse, più treni, più digitalizzazione. Cioè, siccome l'Europa dice vi diamo soldi, però voi dovete fare le riforme, quali sono queste riforme che sta proponendo il governo? Sono più treni, digitalizzazione, meno tasse. Che non sono riforme, cioè, quello che sto dicendo sembra sempre la stessa cosa, chiedere più soldi e fare le cose che sono semplicemente delle azioni contingenti, senza intaccare, come bisognerebbe fare, agendo con umiltà, senza intaccare l'amministrazione dello Stato, cioè quella che è la struttura in sé, che sta dimostrando superfalle, perché se noi cronicamente abbiamo bisogno di soldi, qualche domanda ce la dobbiamo fare. Se cronicamente abbiamo un sistema che non funziona nel risolvere i problemi, qualche domanda ce la dobbiamo fare. E allora che cosa bisognerebbe fare? Secondo me sono due cose di buonsenso, anche analizzando il fatto che oltre frontiera ci sono paesi confinanti che probabilmente su queste cose come pubblica amministrazione lavorano e funzionano meglio di noi. Basta fare due passi oltre frontiera per capire quali sono. Il tema è che oggi dovessimo dire che caratteristica ha lo Stato che frena tutto e centralizza tutto quanto, quello che è la sua incapacità a risolvere i problemi, secondo me è da, sostanzialmente, da definire, noi siamo governati da un centralismo corporativo. E questi sono i due elementi che secondo me se vogliamo veramente rilanciare questo paese bisogna intervenire perché sono i due elementi che ci differenziano agli altri paesi con cui ci stiamo confrontando. Corporativo cosa significa? Lo si vede da ogni tipo di riforma, cioè questo paese non mette il cittadino al centro della cosa, ma mette chi ci sta lavorando, cioè si fa un intervento per le spiagge, si interviene a favore degli stabilimenti balneari, si fa un intervento nella pubblica amministrazione, si interviene in primis sulle persone che ci lavorano e così via. Nei vari settori si interviene sempre per il commercio, è del commerciante, non è del cliente, senza considerare che il cittadino è vero che è commerciante, ma al tempo stesso poi è consumatore ed è una persona che soprattutto vuole cogliere le opportunità del vivere. passare dal concetto di corporativismo che significa difesa dei privilegi a danno dell'interesse generale e passare a mettere al centro il cittadino con le sue opportunità. Cioè lo Stato deve creare quell'ambiente per cui si possano avere le maggiori opportunità per uno che voglia anche entrare in un nuovo settore, per uno che voglia poter fare le cose migliori di quell'altro. Cioè questo è il modo con cui si agisce nel resto dell'Europa, dove al centro c'è il cittadino, come nei rapporti a pubblica amministrazione il cittadino è il fruitore dei servizi della pubblica amministrazione che è il centro delle riforme prima ancora di pensare a quelli che lavorano che sono lì per essere funzione del cittadino dell'impresa. Il secondo aspetto è quello del centralismo cioè è innegabile che l'Italia ha un tipo di caratteristica che è basata sulla forza della diversità la forza dell'autonomia e questo è il DNA dell'Italia da sempre ha una tradizione che è quella dell'impero romano e poi del sacro romano impero che ci lega ai paesi come Svizzera Austria e Germania tutti quanti hanno scelto la via del forte autonomismo noi teoricamente l'abbiamo anche noi perché l'articolo 5 dice che bisogna decentralizzare a livello più basso però di fatto ogni soluzione è sempre il centralismo e lo si vede con queste riforme che stanno venendo proposte. Si può partire e io dico Bonaccini dice ad esempio che è l'unico che dice bisogna ripartire dal nord però io dico possibile che non c'è un leader locale a Milano che dica ragazzi Milano produce più del 10% del PIL è la vera locomotiva la locomotiva non può avere le stesse regole dei vagoni ci date più autonomia senza chiedere sempre col cappello in mano come è una tradizione che non fa parte di Milano purtroppo il nostro sindaco si è sempre ormai espresso per la fatta come battaglia secondo me ideologica del dire credo sia l'unico sindaco al mondo che è contrario a dare più potere la sua città sinceramente non lo capisco in questa cosa che secondo me è un disastro non tanto per lui ma per la nostra città però il cambiamento da proprio questa è un'occasione storica quella finalmente del poter apportare delle riforme addirittura delle riforme che possono consentire all'Italia di poter avere tante più risorse quanto più sono riforme strutturali che devono andare in una direzione simile a paesi con cui competiamo per definizione che paradossalmente hanno preso il nostro amministra modello di autonomia visto che l'Italia è la patria delle moderne città-stato si parla dei grandi imperi di Roma di Venezia di Firenze si parla delle città e quindi tornare a quello ripartendo da Milano concludo ricordando Morricone con la sua grande frase essere originali diventa sempre più difficili ci vediamo domani grazie a tutti